C'è la cugina del compare del fratello di Filomena che si è sposata con un assessore Aspetta, non ti ho detto la cosa più importante Quella ha sposato un assessore appartinato alla famiglia di... Papi, dimmi, che vuoi? Ti ho trovato un posto di lavoro Eh, sì No, no, sì, sì, tu me lo devi dire pure subito perché se no lo diamo a qualcun altro Eh, che lavoro hai? Guardiano Guardiano? Guardiano di che? Dell'obbitorio Eh?